Buongiorno, dallo scorso mese di maggio i mercati finanziari si stanno caratterizzando per un'elevata volatilità, questa volatilità è sostanzialmente dovuta a due fattori, il primo ha una gran massa di liquidità che esiste sui mercati finanziari che è caratterizzata da quello che è l'azione del quantitative easing, cosiddetto della Federal Reserve, che come sapete stampa 85 miliardi di dollari al mese, così come dalla Banca of Japan che stampa un quantitativo doppio. Naturalmente l'America, gli Stati Uniti hanno incominciato a sostenere che questa liquidità nel mercato incomincia a essere in eccesso anche perché si incomincia a intravedere una certa ripresa e allora dallo scorso mese di maggio Bernanke ha incominciato a parlare di tapering, cioè della possibilità che questa massa di liquidità venga man mano rallentata. Questo ha fatto sì che i mercati incominciassero a essere nervosi naturalmente e soprattutto si sono verificati dei disallineamenti abbastanza importanti sulle varie asset class, nello specifico i mercati emergenti in valute locali hanno subito dei grandi deflussi soprattutto per causa di fondi comuni americani che hanno riportato una gran massa di liquidità verso gli Stati Uniti. Questo ha creato sicuramente una caduta di prezzi in queste aree, favorendo un rialzo dei tassi sulla parte decennale del titolo a reddito fisso degli Stati Uniti, del titolo di Stato. Davanti a noi ci si propone un periodo ancora lungo di volatilità perché oggi i mercati hanno solo scontato questo effetto di tapering, il 2014 quindi sarà un anno ancora molto contrastato e soprattutto per investitori del reddito fisso che hanno una visione a breve termine non sarà facile scegliere i fondi giusti per avere dei buoni rendimenti o quantomeno per non perdere, mentre per gli investitori più a lungo termine sicuramente oggi si possono fare dei buoni affari comprando a buoni prezzi specialmente nell'ambito dei mercati emergenti a valuta locale. Tornando indietro nel 2013 possiamo vedere dalla slide tutte le volte che è stato preso in considerazione l'argomento tapering quindi a fine maggio, a metà agosto e a fine novembre i mercati emergenti e valute locali sono crollati quindi hanno avuto delle perdite consistenti mentre se guardate la linea blu c'è una combinazione di prodotti che stiamo proponendo noi di Raiffeisen in questo momento che ha invece decretato un rendimento positivo o quantomeno una non perdita. Si tratta di una combinazione di due prodotti che hanno già dimostrato anche nel passato di ottenere buoni rendimenti, nello specifico il 4,31 a circa 4 anni con una volatilità di poco superiore al 2, due fondi che investono soprattutto in titoli di Stato e titoli corporate. Per quanto riguarda il futuro invece ci sono molti investitori nel mercato che ritengono che una volta esaurita la fase di tapering i mercati avranno un rialzo di tassi di interesse. Questa è una certa efficacia anche in questo ambito e quindi in questa situazione proprio perché uno dei due prodotti il fondo comune short time strategy può addirittura avere una duration negativa quindi non solo può difendersi bene da quello che è un eventuale scenario di rialzi di tassi ma può avere anche dei rendimenti diciamo in eccesso dovutamente al fatto che con la duration negativa ci si riesce a guadagnare anche i momenti di rialzo. I due fondi di casa Raiffeisen si chiamano obbligazionario euro breve termine e short time strategy plus. Hanno una storia molto lunga e investono in un portafoglio di oltre 200 titoli tra governativi e corporate investment grade. Hanno una duration relativamente corta inferiore a un anno e uno di questi può andare in duration negativa.